Deputato dell'Udc da otto anni, sindaco appena reintegrato da tre e presso forse parlamentare europeo. Un passaggio, quest'ultimo, che lo costringerebbe a scegliere tra Roma e Strasburgo. Il curriculum di Angelo Cera è quello di un politico di razza. Nei giorni scorsi la Corte d'Appello di Bari ha confermato il verdetto del Tribunale di Foggia che lo aveva reintegrato nella carica di sindaco di San Marco in Lamis. I magistrati hanno bocciato il ricorso presentato da sei consiglieri comunali di PD, SEL, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Nei mesi scorsi il Consiglio di Stato gli aveva già dato ragione. Dopo la sua elezione nel 2011 a sindaco, la normativa nazionale aveva previsto l'incompatibilità tra l'incarico di parlamentare e quello di primo cittadino nei comuni tra i 5.000 e i 20.000 abitanti, ma solo a partire dal successivo mandato. Cera era stato comunque dichiarato decaduto lo scorso luglio, adesso è tornato invece a pieno titolo a guidare l'amministrazione comunale e si è appressa a chiedere i danni ai ricorrenti. Avendo subito un danno gravissimo, chiederò anche danni di natura psicologica, morale, i danni anche di immagine che mi hanno procurato. Angelo Cera però non si ferma, ha deciso di candidarsi alle europee con l'Udc dopo aver già sfiorato l'elezione 5 anni fa quando ottenne 28.000 voti. Il mio partito ha voluto che io fossi al sostegno della grande storia democristiana, del PPE, anche perché la nuova norma mi dà la possibilità di poter essere candidato alle europee senza lasciare il mio posto da sindaco.